Gigi Riva è il primo marcatore ogni epoca del calcio italiano per squadra nazionale con 35 gol in un'epoca in cui c'erano le autoreti ovvero sia se qualcuno deviava il pallone il gol non era tuo oggi sei tirato nello specchio e c'erano i palloni di allora e si è rotto due volte la gamba giocando in nazionale il suo allenatore della Junior perché lui è un giocatore di serie C degli anni 60 gioca a Legnano in provincia eppure gioca nella Nazionale Junior sarebbe l'Under 21 più o meno oggi il suo allenatore dell'epoca Galluzzi dice una frase che secondo me è il DNA della storia dove gli altri fanno fatica a mettere il piede lui ci metteva la testa